La prima epistola di Giovanni Apostolo 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 «Sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi, ma sono usciti affinché fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri. «Quanto a voi, avete l'unzione dal santo, e conoscete ogni cosa. Io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete, e perché tutto quello che è menzogna non ha a che fare con la verità.» La prima epistola di Giovanni Apostolo «Anche voi dimorerete anche voi dimorerete nel figliuolo e nel padre.» «E questa è la prima epistola di Giovanni Apostolo «Ed ora, figlioletti, dimorate in lui affinché quando egli apparirà, abbiamo confidenza, e dalla sua venuta non abbiamo da ritrarci da lui coperti di vergogna.» «Se sapete che egli è giusto, sappiate che anche tutti quelli che praticano la giustizia sono nati da lui.» «Capitolo 3» «Vedete di quale amore ci è stato largo il padre dandoci di essere chiamati figliuoli di Dio, e tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto lui.» «Diletti, ora siamo figliuoli di Dio, e non è ancora reso manifesto quello che saremo.» «Sappiamo che quando egli sarà manifestato, saremo simili a lui, perché lo vedremo come egli è. E chiunque ha questa speranza in lui, si purifica come esso è puro.» «Chi fa il peccato commette una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge.» «E voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in lui non c'è peccato. Chiunque dimora in lui non pecca, chiunque pecca non l'ha veduto né l'ha conosciuto.» «Figlioletti, nessuno vi seduca. Chi opera la giustizia è giusto come egli è giusto. Chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio.» «Per questo il figliuolo di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo.» «Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il semi di esso dimora in lui, e non può peccare perché è nato da Dio.» «Da questo sono manifesti i figliuoli di Dio e i figliuoli del diavolo.» «Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama il suo fratello.» «Poiché questo è il messaggio che avete udito dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri, e non facciamo come Caino, che era dal maligno e uccise il suo fratello.» «E perché l'uccise? Perché le sue opere erano malvage, e quelle del suo fratello erano giuste.» «Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia.» «Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli.» «Chi non ama rimane nella morte.» «Chiunque odia il suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in se stesso.» «Noi abbiamo conosciuto l'amore da questo, che egli ha data la sua vita per noi.» «Noi pure dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli.» «Ma se uno ha dei beni di questo mondo, e vede il suo fratello nel bisogno, e gli chiude le proprie viscere, come dimora l'amore di Dio in lui?» «Figlioletti, non amiamo a parole e con la lingua, ma a fatti e in verità.» «Da questo conosceremo che siamo della verità, e renderemo sicuri i nostri cuori dinanzi a Lui.» «Poiché se il cuore nostro ci condanna, Dio è più grande del cuore nostro, e conosce ogni cosa.» «Diletti, se il cuore nostro non ci condanna, noi abbiamo confidenza dinanzi a Dio.» «E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti, e facciamo le cose che gli sono grate.» «E questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Suo figliolo Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, come Egli ce ne ha dato il comandamento.» «E chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Lui ed Egli in esso, e da questo conosciamo che Egli dimora in noi, dallo Spirito che Egli ci ha dato.» «Capitolo 4» «Diletti, non crediate ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo.» «Da questo conoscete lo Spirito di Dio, ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto in carne è da Dio, e ogni spirito che non confessa Gesù non è da Dio.» «E quello è lo Spirito dell'Anticristo, del quale avete udito che deve venire, ed ora è già nel mondo.» «Voi siete da Dio figlioletti, e li avete vinti, perché colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo.» «Costoro sono del mondo, perciò parlano come chi è del mondo, e il mondo li ascolta.» «Noi siamo da Dio, chi conosce il Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta.» «Da questo conosciamo lo Spirito della verità e lo Spirito dell'errore.» «Diletti, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce i Dio.» «Chi non ama non ha conosciuto i Dio, perché Dio è amore.» «In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo onigenito figliuono nel mondo, affinché per mezzo di Lui vivessimo.» «In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato il Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figliuolo per essere la propiziazione per i nostri peccati.» «Diletti, se Dio ci ha così amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri.» «Nessuno vide giammai il Dio.» «Se ci amiamo gli uni gli altri, il Dio dimora in noi, e l'amore di Lui diventa perfetto in noi.» «Da questo conosciamo che dimoriamo in Lui ed Egli in noi, che Egli ci ha dato il suo Spirito.» «E noi abbiamo veduto e testimoniato che il Padre ha mandato il figliuolo per essere il Salvatore del mondo.» «Chi confessa che Gesù è il figliuolo di Dio, il Dio dimora in Lui ed Egli in Dio.» «E noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi, e vi abbiamo creduto.» «Dio è amore, e chi dimora nell'amore dimora in Dio, e Dio dimora in Lui.» «In questo l'amore è reso perfetto in noi, affinché abbiamo confidenza nel giorno del giudizio, che quale Egli è, tali siamo anche noi in questo mondo.» «Nell'amore non c'è paura, anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché la paura implica apprensione di castigo, e chi ha paura non è perfetto nell'amore.» «Noi amiamo perché Egli ci ha amati il primo.» «Se uno dice, io amo Dio, e odea il suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama il suo fratello che ha veduto, non può amare Dio che non ha veduto.» «E questo è il comandamento che abbiamo da Lui, che chi ama Dio, ami anche il suo fratello.» Capitolo 5 «Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da Lui generato.» «Da questo conosciamo che amiamo i figliuoli di Dio, quando amiamo Dio e osserviamo i Suoi comandamenti.» «Perché questo è l'amore di Dio, che osserviamo i Suoi comandamenti, e i Suoi comandamenti non sono gravosi.» «Perché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede.» «Chi è colui che vince il mondo, se non colui che crede che Gesù è il figliuolo di Dio?» «Questi è colui che è venuto con acqua e con sangue, cioè Gesù Cristo, non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e col sangue.» «Ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità.» «Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza, lo Spirito, l'acqua e il sangue, e i tre sono concordi.» «Se accettiamo la testimonianza degli uomini, maggiore è la testimonianza di Dio, e la testimonianza di Dio è quella che gli ha resa circa il suo figliuolo.» «Chi crede nel figliuolo di Dio ha quella testimonianza in sé, chi non crede a Dio l'ha fatto bugiardo, perché non ha creduto alla testimonianza che Dio ha resa circa il proprio figliuolo.» «E la testimonianza è questa, il Dio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo figliuolo.» «Chi ha il figliuolo ha la vita, chi non ha il figliuolo di Dio non ha la vita.» «Io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliuolo di Dio.» «E questa è la confidenza che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, Egli ci esaudisce.» «E se sappiamo che Egli ci esaudisce in quel che gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che gli abbiamo domandate.» «Se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita.» «A quelli cioè che commentano peccato che non meni a morte.» «Vè un peccato che mena a morte.» «Non è per quello che dico di pregare.» «Ogni iniquità è peccato, e vè un peccato che non mena a morte.» «Noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca, ma colui che nacque da Dio lo preserva, e il maligno non lo tocca.» «Noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace nel maligno, ma sappiamo che il figliuolo di Dio è venuto e ci ha dato intendimento per conoscere colui che è il vero.» «E noi siamo in colui che è il vero Dio, nel suo figliuolo Gesù Cristo.» «Quello è il vero Dio, la vita eterna.» «Figlioletti, guardatevi dagli idoli.» «Si se, ora sono state danni» «Gannato le мало nostre formazioni e non fischengono le Salvadorivo manne.» «E 있고요 لي è nessun oppure finsilietro che si devono credere.» «Segu�러 io il nostro figli ottimo che si dic Voorhi.» «Hasso, il nostro figli tu le אוi.» «Buono, tutte le cure varie.» «Coverguntele, guardatevi.» «En l' explicato il seguito, laifornia, tra Mariniek.» « ALLimisas» «Polui.» «Le montoi». «Be wären fissime», « Nevada», « NeposKing», Grazie.